Le sue condizioni al momento dell'incidente non erano sembrate gravi, poi il peggioramento al momento dell'arrivo al pronto soccorso. I traumi riportati erano infatti molto preoccupanti. Necessario il suo trasferimento a Firenze e a Careggi. Da quel momento è iniziato un vero e proprio calvario, uno stilicidio che ha stressato familiari e amici. Stamani la comunicazione al figlio, la pensionata di 79 anni non ce l'ha fatta. Il suo cuore ha cessato di battere e pensare che negli ultimi giorni erano affiorati segnali minimi di miglioramento. Infatti non era da escludere il suo trasferimento in un centro specializzato, ma tutto è stato inutile. Lascia il marito e i due figli. La donna era molto conosciuta, il figlio è titolare di un esercizio pubblico molto frequentato nella zona di Ceciliano. E la notizia dell'incidente ebbe una grossa eco non solo nella comunità locale. L'ennesima vittima della strana, l'ennesima morte sul regionale 71 tra Ceciliano e Sitorni. Una strada pericolosa che necessita di maggiori misure per la sicurezza di tutti.